Al Museo d'Arte Moderna di New York è stata aperta al pubblico una mostra d'arte astratta, a giustificazione della quale gli artefici hanno premesso che non si tratta di una deformazione dell'arte come un povero profano sarebbe indotto a pensare, ma di una nuova espressione indipendente dalla natura puramente cerebrale. Vi è proprio da rimanere perplessi e resta a vedere se troveranno molti acquirenti.